Buongiorno, domenica 21 novembre alle ore 11 terò la conferenza dal titolo Dall'aldilà i nostri cari ci aiutano e ci confortano nell'ambito del convegno online sulla medianità organizzato da Carmen Meeting ed è proprio la medianità che mi ha aiutato a superare il trauma causato dalla morte fisica di mio figlio e con gli aiuti dall'altra dimensione con la quale comunico tramite scrittura automatica cerco di dare un contributo a chi ha subito il triste evento e a chi come me è comunque in cammino alla ricerca di una nuova consapevolezza spirituale a presto